Quando ho preparato il discorso prima della partenza per il torneo di Vareggio è stata la prima cosa che ho sottolineato alla squadra di giocare questo torneo anche per Giuseppe perché quando è caduto nell'ultimo contrasto, nell'ultima partitella di due giorni fa è praticamente rimasto il braccio sul pallone che rotolandogli è praticamente uscita la spalla e lui non urlava dal dolore ma la prima cosa, occhi chiusi, ho queste immagini che me la porterò dentro perché gli sono veramente vicino, la prima cosa che ha esclamato non era il dolore che sentiva ma è finito tutto a esclamare, quindi ora ho anche una forte emozione perché mi ha toccato parecchio perché sapeva per lui quanto era importante e quanto è importante per tutti i ragazzi questa vetrina e c'è veramente grandissimo dispiacere non poterlo avere dentro di noi perché è un ragazzo che ha dieci anni che è in Fiorentina, è sempre stato uno dei più positivi nel gruppo 98 è un giocatore che anche nelle sofferenze non ha mai mollato, ha superato tante difficoltà e quindi gli siamo veramente vicini e cercheremo di andare il più avanti possibile per dedicargli quanto più possibile perché anche se non è, è dentro i nostri cuori veramente grazie